Il 7 di ottobre l'Alleanza Verdi e Sinistra in Parlamento e fuori dal Parlamento ha condannato l'atto terroristico di Hamas. Quello che è accaduto però dopo le settimane, l'atto è un qualcosa di inaccettabile. Netanyahu ha commesso dei crimini contro l'umanità, sono indizi genocidiali questi, perché nel momento in cui si impedisce ad arrivare aiuti umanitari dentro la sfiscia di Gaza, noi abbiamo visto con i nostri occhi sotto il tendone della croce rossa egiziana, a poche decine di chilometri dal valico di Rafa, abbiamo visto materassi, incubatrici, materiali chirurgico, medicine per l'anestesia che non potevano entrare perché per lo Stato di Israele non garantivano la sicurezza dello Stato di Israele. Abbiamo registrato i racconti di medici che hanno operato senza anestesia con persone che sono morte nell'agonia del dolore. Potremmo raccontare con racconti e storie drammatiche dal punto di vista umano. Ci troviamo di fronte a una situazione che con nettezza per noi sono crimini contro l'umanità e rispetto a crimini contro l'umanità sanzionare chi li ha commessi è un atto dovuto, come è accaduto in altre situazioni. Penso che dobbiamo avere delle parole nette. Queste parole nette sia dall'Europa che dalla comunità internazionale non sono venuti, ma nessuno ci venga a dire che siccome critichiamo le politiche di Netanyahu siamo antisemiti. Su questo non ci stiamo, per noi il valore della vita umana viene sempre, comunque, prima di ogni cosa. Grazie.